Buongiorno Vincenzo Longo dalla sala operativa di G di Milano. Virano in positivo le borse europee dopo un'apertura in deciso calo. Sui nuovi minimi si sono registrati nuovi ordini di acquisto della parte più speculativa del mercato che punta a un rimbalzo fisiologico dopo il forte pervenduto delle ultime sedute. I buoni dati rilasciati in Cina nella notte sulla bilancia commerciale potrebbero in qualche modo stemperare i recenti timori sul rallentamento globale come ribadito nel meeting del Fondo Monetario Internazionale durante il weekend. Le tensioni però rimangono alte sul mercato. A dimostrazione di ciò vi è il nuovo minimo storico da registrare sul rendimento del bunto a 10 anni che si è portato stamani in area 0,86%. Rimane vivace anche lo yen che contro euro si è spinto ai massimi da novembre 2013. Tra le commodities l'oro si è portato ai massimi da quasi un mese in area 1.240 dollari l'uncia salvo poi ritracciare un pochino. Mentre le prospettive deboli di crescita e il taglio dei prezzi ufficiali di vendita da parte dell'Iraq sul petrolio stanno penalizzando in particolar modo il Brent. Intanto nel giorno dedicato a Cristoforo Colombo il NICE si prepara ad accogliere lo sbarco di FCA. Il clima di semifestività potrebbe penalizzare però le contrattazioni. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona giornata e buon trading. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.